Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Viola intanto seguono Zazza, Mete e Bonifazi In difesa Piace Rojo In rotta con il Manchester United L'obiettivo per il centrocampo Continua ad essere Duncan del Sassuolo La Gazzetta dello Sport Cutrone in Viola La soluzione è vicina In attacco passi avanti per l'ex Milan Il rinforzo prescelto da Iachini Per Fiorentina1.com Beatrice Canzedda Grazie a tutti